Musica Un giovane di soli 19 anni è stato picchiato e ucciso da un gruppo di giovani nel Kent in Inghilterra. Il ragazzo si era trasferito lì da Nibionno in provincia di Lecco per lavorare come cameriere solo pochi giorni fa. Il sindacato in massa contro la manovra sulle aliquote IRPEF della giunta comunale di Milano. Così vengono colpiti dipendenti e pensionati, dice il segretario milanese della CISL. E di 700 nuovi posti l'aumento ha ottenuto nelle carceri lombarde grazie ad una serie di cambiamenti qualitativi per la vita dei detenuti e l'organizzazione degli istituti di pena. Lo ha annunciato questa mattina il provveditore. Arrestato l'uomo ritenuto responsabile del furto commesso ieri mattina nella boutique di Ermessa, Milano. La svolta ieri sera quando è stata ritrovata la refurtiva a casa del ricettatore. Musica Buonasera e buonasera anche dalla TGN. Benvenuti a questa edizione. Come l'avete sentito dai titoli, un giovane di 19 anni di Nibionno, un comune in provincia di Lecco, è stato picchiato a morte in Inghilterra, nella zona del Kent, da un gruppo di giovani. Si era trasferito pochi giorni fa proprio lì per lavorare come cameriere per cercare fortuna. Gli inquirenti stanno indagando sul movente del delitto. Sentiamo Stefano Fumagalli. Era partito solo pochi giorni fa per l'Inghilterra. Ieri è stato massacrato di botte e ucciso nella sua stanza per ragioni ancora da chiarire. Gioele Leotta, 19enne di Nibionno in provincia di Lecco, sognava un'esperienza all'estero, imparare l'inglese, metter via qualche soldo. E così era venuto qui nel Kent, nella cittadina di Maidstone. A una quarantina di chilometri a sud di Londra, aveva trovato un lavoro in questa pizzeria gestita da italiani Vesuvius come cameriere. Con lui l'amico di Nibionno, Alex Galbiati, con cui condivideva anche l'alloggio. Le ragioni dell'aggressione restano da chiarire, anche se si pensa che tutto sia cominciato proprio durante il turno di lavoro nel locale, quando un gruppo di ragazzi ha cominciato a prendere di mira Gioele. E tra le parole volate ci sarebbe stato anche qualche riferimento al fatto che gli italiani rubano il lavoro. Cosa sia successo dopo e al vaglio degli investigatori? Quel che è certo è che in nove si sono presentati nella stanza dei due ragazzi e hanno cominciato un pestaggio senza pietà. Calci in faccia, pugni, Gioele resta a terra, pestato a morte, per lui non ci sarà nulla da fare. Se la cava meglio l'amico Alex, che oggi è stato dimesso dall'ospedale, la polizia ha fermato nove persone, due rilasciate su cauzione, giovani tra i 21 e i 25 anni, ma solo uno di loro è inglese. Un particolare da non tralasciare visto che gli inquirenti tendono ora alla cautela sul movente razziale del pestaggio. Il fratello del giovane ipotizza su Facebook uno scambio di persona, anche perché, aggiunge il padre del ragazzo, non era un'attacca brighe. Gli amici sui social chiedono giustizia. C'è un ragazzo pieno di speranze ucciso barbaramente. Ci sono quelle urla italiani ci rubate il lavoro che necessitano di una spiegazione. C'è una famiglia e un'intera comunità sconvolta e disperata. Ora veniamo a Milano. Ci sono dure critiche alla manovra della Giunta per le aliquote IRPEF, soprattutto da parte dei sindacati. Abbiamo sentito il segretario generale della CISL di Milano, che sottolinea che ancora una volta pagano sempre gli stessi. In questo caso i più colpiti saranno i dipendenti e i pensionati. Sentiamo Alberto Carreras. A pagare sono sempre i lavoratori, gli impiegati, gli operai e i pensionati. Lo sostiene il segretario generale della CISL di Milano Metropoli, Danilo Galvani, in merito alla manovra sull'addizionale IRPEF decisa dal Consiglio Comunale. Con l'aliquota unica allo 0,8%, chi ha un reddito di 22.000 euro l'ordi all'anno, che lo scorso anno non pagava nulla, adesso pagherà 176 euro. Chi guadagna 34.000 euro dovrà sborsare 272 euro contro i 52 precedenti. 432 euro invece per i redditi di 54.000 euro. La cifra precedente si attestava a 112 euro. Infine, se i 100 euro dovranno essere pagati da quanti guadagnano 75.000 euro all'anno, ne pagavano 215. Insomma, il salasso colpirà buona parte della cittadinanza. Fissare l'esenzione a 21.000 euro è un salto nel buio per il segretario generale della CISL milanese. Noi avremmo voluto che fosse stato modulato l'applicazione della percentuale. Lo 0,8% colpirà tutto il reddito. Per cui chi ha 21.000 euro, 21 e 1 euro in più, si vedrà applicato su tutto il suo montante lo 0,8%. È una battosta incredibile, ma mi sembra che la stampa, da questo punto di vista, nei giornali i conti li abbia fatti corretti. Secondo il CAF della CISL, contrariamente a quanto affermato da Palazzo Marino, l'esenzione dal pagamento dell'addizionale toccherà soltanto il 38% dei contribuenti e non il 53%. Tutti gli altri dovranno mettere mano al portafoglio. Però noi sosteniamo che non si arriva sicuramente al 50%, per cui il campione nostro è significativo. Il problema grosso è che sul 2014 abbiamo anche pendente la questione della tassa dei servizi, che partirà da un imu che i comuni di Milano hanno già portato come asticella al massimo, anche se lo ritiene virtuale. Il problema è che partiremo poi da quel massimo che è già stato definito. Restando a Milano la scala, perché il Consiglio d'amministrazione del Pier Marini non dovrà rimpicciorirsi nella legge di stabilità che ha il vaglio in questi giorni al Senato, che c'è una norma che cancella le limitazioni al numero di membri degli organi di amministrazione nelle istituzioni culturali. Sei consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito. I membri del CDA della scala al momento sono 10, quindi di più del periodo della legge, non percepiscono alcun compenso, quindi a questo punto il CDA della scala viene salvato. Ora parliamo di carceri, perché c'è stata oggi una conferenza stampa da parte del provveditore delle carceri, Aldo Favozzi, e sono 700 i posti recuperati, non con la costruzione di un nuovo edificio, ma con la modifica del regolamento dell'ordinamento carcerario e della distribuzione degli orari e di come vivono i detenuti nelle celle. Ma vediamo, nel servizio di Jacopo Casoni. Non nega l'emergenza, anzi, la conferma, parla di quelle celle strette, di quei corpi pigiati. Dice, testuale, che in carcere c'è anche povera gente, non sono mica tutti bombaroli, assassini e mafiosi. Dice che su 5.500 detenuti, circa 3.000 sono stati condannati a pena inferiori ai tre anni, oppure il residuo da scontare è di quell'entità. A bozza soluzioni il provveditore Favozzi, schiva l'amnistia o l'indulto e apre a regimi alternativi al carcere. Ma qualcosa ha già fatto, lo dice, lo rivendica con orgoglio. Si parte dai 700 posti in più ricavati grazie alla costruzione di nuovi reparti nelle carceri lombarde. Già disponibili 200 posti a Voghera, i primi otto detenuti sono arrivati oggi, 300 a Pavia, 200 a Cremona e dentro giugno altri 100 a Busto Arsizio. Ma c'è dell'altro, c'è un'attenzione diversa a chi vive la realtà del carcere. I detenuti di media sicurezza, ad esempio, non rimarranno più la maggior parte del tempo in cella. Hanno un'apertura delle celle che va dalle 8 alle 8 e mezza circa 12 ore e comunque non meno di 8 ore al giorno. Abbiamo creato delle strutture all'aperto in cui i detenuti si incontrano proprio familiari in questi grandi giardini dotati di panchine, di gazebo, di coperture. Un modo questo per arginare a costo zero o quasi l'emergenza del sovraffollamento. San Vittore è un altro nervo scoperto. Il provveditore spiega che non chiuderà nulla, tantomeno il reparto femminile. Il fatto è che qui ci dovrebbero essere detenuti in attesa di giudizio e non condannati in via definitiva. Entro un mese ne sposteranno 400. Nel giro di un anno un paio di raggi chiusi dovrebbero essere restaurati e riaprire. 500 posti in tutto. Ci si prova, insomma, con quello che c'è, con i soldi che mancano, come al solito. Anche se in un anno sono stati stanziati e spesi circa 6 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. Una cosa, però, e lo dice chiaramente, deve essere cristallina. È una strada senza ritorno. Nel senso che è così e basta. Il nuovo carcere sarà questo. Non è più... Il passato è passato. Voglio dire, è finito. A proposito di giustizia, il gruppo di Milano Andrea Ghinetti ha ammesso come parte civile il comune di Sedriano, il primo in Lombardia ad essere sciolto per mafia, che si è costituito attraverso il suo commissario contro l'ex sindaco Alfredo Celeste e il medico Marco Scalambra, imputati nell'udienza preliminare, assieme tra gli altri all'ex assessore regionale Domenico Zambetti nell'ambito del procedimento sulle infiltrazioni dell'andrangheta in Lombardia. L'ex sindaco Celeste, insieme a Zambetti Scalambra, che è marito di una consigliera comunale capogruppo del PDL ed alcuni presunti BOS, tra cui anche Eugenio Costantino, furono arrestati nell'ambito dell'inchiesta della DDA milanese il 10 ottobre del 2012. Ancora cronaca, è stato arrestato un uomo di 47 anni italiano per il furto di ieri mattina quando è sparita la nuova collezione di Hermès. La svolta ieri sera quando è stata ritrovata anche la refurtiva. Le indagini però non sono finite. Un carico sparito nel nulla, martedì mattina siamo in pieno quadrilatero della moda. Dentro al furgone, parcheggiato in via Pisoni, la nuova collezione di Hermès, arrivata dalla Francia. Un furto che è un fracasso, fa scalpore, proprio lì, in mezzo allo chic, al lusso. In serata, la svolta. In questura arriva un ricettatore nella sua abitazione in Viale Certosa. Hanno trovato la refurtiva. Poco dopo, gli agenti della volante arrestano un 47enne italiano. In casa ha anche svariate borse Stella McCartney e materiale di precisione per stimare diamanti e pietre preziose. La polizia sta indagando per favoreggiamento anche un 22enne che si stava allontanando dall'appartamento con 22 mila euro. Le indagini non sono chiuse però. Resta da capire la dinamica del furto, un colpo da 400 mila euro tra vestiti e accessori. I due autisti francesi hanno lasciato il furgone incustodito per andare a fare colazione. Anche loro sono una fonte primaria per carpire dettagli in più, per aprire piste che consentano di accertare come un'eventuale banda abbia saputo per tempo dell'arrivo a Milano di quel carico prezioso e proprio per questo presumibilmente top secret nel suo tragitto dalla Francia al capoluogo Lombardo. Si è accertato che il furto è stato compiuto forzando il lucchetto del portellone del furgone i dubbi riguardano la tempistica del colpo. Dopo la rapina alla gioielleria Frank Muller e Ramaggio la zona del quadrilatero era stata blindata, battuta in lungo e in largo dalle forze dell'ordine con un pattugliamento incrementato per evitare altre brutte sorprese. Da poco si era tornati alla normalità o quasi, guarda caso, è arrivato il botto. Tante domande, finora una risposta chiara, l'arresto di ieri notte. Ne servono altre, si sta lavorando per averle tutte. E intanto è stato anche convalidato il fermo dell'uomo che è stato appunto arrestato. A proposito di giustizia ancora, gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Monza hanno arrestato un 29enne rumeno per violenza sessuale ai danni di due donne di 29 anni e di due minorenni. Gli episodi si sono verificati tutti intorno all'area circostante a via Silvio Pellico a Monza nell'arco di alcuni mesi e sono stati supportati da numerose segnalazioni da parte di alunne e genitori di una scuola che più volte hanno avvistato il molestatore vicino alla palestra dell'istituto mentre spiava le ragazzine. Indagini in corso al fine di risalire ad altre possibili vittime. E adesso parliamo del tragico incidente accaduto in via Lefarmagosta. La donna uccisa travolta da un'auto con il suo bambino di 4 anni e per di più incinta. Il marito è un uomo distrutto, si chiama Ahmad Gadali Agadi, è un egiziano di 35 anni. Vuole seppellire la sua famiglia in Egitto, nel paese dove sono nati. Intanto però vanno avanti le indagini e i vigili urbani cercano di scoprire meglio come siano andate le cose anche perché molti in particolare sono ancora davvero da chiarire. È come se fossi morto io. È un uomo disperato, Ahmad Gadali Agadi, 35 anni egiziano di professione cuoco. È lui che domenica sera ha perso la moglie Magda, il piccolo Romuando di 4 anni. È una bambina che la donna aveva in grembo, nata praticamente già morta dopo il parto. In quel maledetto viale Famagosta, travolti da una Citroen C3 Picasso, non ho altri a cui attaccarmi, con loro ho perso tutto, ha detto più volte tra le lacrime. I corpi della moglie, del bambino e della bambina appena nata si trovano all'obitorio. Ahmad ripete che la moglie non voleva passare attraverso il sottopassaggio, le scale della discesa, poi quelle della salita. Le mancava sempre l'aria, era il settimo mese di gravidanza, con una mano teneva Romuando, con l'altra la borsa della spesa e ha attraversato viale Famagosta, poi il terribile impatto. Adesso Ahmad è a casa di suo fratello Naim nel quartiere Stadera insieme ai cugini. Sono stravolti, attendono l'esito delle autopsie, vogliono riportare i loro morti in Egitto, nella città di Asyut, lungo il Nilo. I vigili urbani stanno cercando di ricostruire l'incidente. Bisogna capire quale fosse la velocità della vettura investitrice, accertare il punto preciso dell'impatto, se la donna si trovasse già in mezzo alla strada e capire anche l'esatto orario del decesso del piccolo Romuando, rimasto circa un'ora e mezza tra i due guardrail, a circa 50 metri dalla presunta zona dell'incidente. Chissà, forse con un intervento immediato si sarebbe potuto salvare. Tante ipotesi, tanti dubbi che devono essere risolti. Gli avvocati dell'investitore stanno valutando di denunciare chi deve garantire la conformità delle protezioni stradali con le regole di sicurezza del codice della strada. Ancora cronaca, dolci tra caramelle, biscotti, cioccolatini e altro per 250 kg sono stati sequestrati dalla polizia locale di Milano in una bancarella del mercato orionale di Via Vespri Siciliani. Di questi, oltre 100 kg che erano esposti alla vendita con la scadenza indicata dalle confezioni contraffatta, mentre 150 kg presentavano una etichetta irregolare. Il titolare dell'attività è un uomo italiano di 78 anni che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Inoltre sono state messe a suo carico sanzioni amministrative per un ammontare di circa 3.000 euro. E questa mattina gli assessori Benelli e Granelli hanno incontrato centri sociali e comitati inquilini sul tema dell'emergenza abitativa. Dialogo aperto, anche se sul blocco degli sfratti resta una distanza che pare davvero incolmabile. Jacopo Casoni Sono arrivati puntuali, alle 10 in piazza Beccaria sono arrivati in corteo, una ventina, fumogeni e striscioni gli slogan di sempre, gli slogan di ieri durante l'occupazione degli sportelli dell'ERP in Via Pirelli. Al piano di sopra li aspettavano l'assessore Granelli e la collega Benelli, un incontro inedito. È la prima volta che il comune dà udienza a centri sociali e comitati inquilini almeno è la prima volta che li invita. Hanno portato la loro piattaforma 11 punti messi nero su bianco si parla di uno stop alla dismissione del patrimonio pubblico di interventi che riguardino anche i privati che per più di 5 anni tengono sfitti e inutilizzati stabili sul territorio comunale c'è la requisizione ci sono le proposte legate all'autorecupero c'è l'idea di spostare risorse da Expo e grandi opere a un fondo che dia risposte all'emergenza abitativa e ovviamente c'è la richiesta di un blocco immediato di sfratti e sgomberi degli occupanti per necessità. Sui temi della requisizione e sui temi di altre politiche abitative siamo abbastanza soddisfatti dopodiché dalle parole vogliamo infatti c'è da riscontrare per l'ennesima volta come sugli sgomberi delle case occupate per necessità e su questa questione della sanatoria il comune invece fa muro ribadendo dei concetti che sembra di sentire una giunta precedente e su questo continueremo noi a praticare quello che facciamo la resistenza agli sfratti la resistenza agli sgomberi è stato un momento di confronto che i comitati e il sindacato di base aspettavano da tempo ma in coda c'è l'avviso ai naviganti o si ragiona insieme soprattutto si stila un programma che possa avvicinare le parti oppure la piazza resterà piazza come a Roma e lo sarà spesso anche qui intanto il Suni ha chiesto un incontro urgente al prefetto per ribadire la necessità di andare oltre la moratoria sugli sfratti condivisa firmata dal Lanci l'emergenza abitativa insomma è sul tavolo stavolta sembra che possa starci senza che qualcuno le dia il solito colpo la solita gomitata distratta per farla cadere giù una notte bianca a Milano con musica e intrattenimento in attesa di poter acquistare nuovi modelli di smartphone in vendita anche in Italia a partire dal 25 ottobre quindi dopo domani infatti domani sera i negozi Team di Milano apriranno le porte anche di sera a partire dalle 23.30 per attendere insieme ai clienti la mezzanotte un minuto dopo la mezzanotte lo staff, scusate, sarà possibile acquistare i nuovi prodotti Apple la notte bianca di Team si svolgerà contemporaneamente in 18 città italiane ora parliamo di smog perché la cabina di regia che monitora la qualità dell'aria su scala provinciale si è riunita questa mattina a Palazzo Isimbardi approvata all'unanimità la proposta della provincia di chiedere alla regione di farsi carico dell'applicazione del protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dell'aria sentiamo Stefano Fumagalli l'aria si fa pesante lo dicono le centraline di rilevamento che indicano da quattro giorni il superamento dei limiti delle polveri sottili e così si inaspriscono anche i blocchi discussi oggi nella cosiddetta cabina di regia che tiene sott'occhio le politiche ambientali e che dalla provincia di Milano ha approvato all'unanimità un protocollo da sottoporre a Regione Lombardia affinché l'ente si faccia carico dell'applicazione delle norme nei comuni dell'area critica della provincia le richieste riguardano i giorni di stop degli Euro 3 Diesel in caso di superamento dei limiti per oltre 10 giorni si passerà da 3 a 5 giorni oltre al blocco sperimentare già annunciato che il comune di Milano vuole portare avanti proprio sugli Euro 3 Diesel auto in garage dal 15 gennaio al 15 di febbraio a riscaldamenti spenti difficilmente vi è sforamento nel momento in cui si accendono i riscaldamenti ogni anno abbiamo la situazione quindi sappiamo bene che gli interventi veri sono da fare su un altro tipo di discorso efficientamento energetico stiamo andando in questa direzione il blocco di diesel lo ripeto sarà solamente fatto se vi è una situazione di emergenza i numeri dello smog spaventano nei fatti e nelle corsie degli ospedali visto che i dati parlano di un aumento del 9% dei bambini ricoverati dopo 5 giorni di smog sopra la soglia di tolleranza oltre che una vita più breve di 2-3 anni nelle aree più inquinate nel 2013 Milano ha sforato i limiti per 50 volte nonostante il limite sia 35 la stagione invernale sia appena cominciata il protocollo approvato oggi sarà sottoposto all'assemblea dei sindaci che si riunirà tra un paio di settimane auspicando che la regione faccia un decreto che obblighi i comuni dell'area critica ad applicare il protocollo ancora notizia milanese il giardino dei giusti di Milano sarà rinnovato in vista di Expo 2015 a questo proposito ha parlato anche il premier Letta oggi ha detto Expo se è una buona occasione per l'Italia e per Milano anche se a volte siamo autolesionisti comunque parlando del giardino dei giusti il nuovo progetto darà una nuova veste alla grande area al Monte Stella dove dal 2003 sorge appunto il giardino per ricordare i giusti che si sono battuti contro i genocidi in difesa dei diritti umani nasceranno quattro aree ognuna pensata per una specifica funzione con questo è davvero tutto io mi fermo qui vi ricordo però prima della fine del TGN i programmi della nostra serata perché a seguire il telegiornale andrà in onda Nova Stadio con Michele Marchetti e i suoi ospiti alle 23 invece ci ritroviamo per il TGN della notte con questo è davvero tutto vi ringrazio per la vostra attenzione per chi desidera dopo la sigla e la pubblicità ci sono le previsioni del tempo arrivederci a presto